Radici laterali senza aver paura, perché così cosa succede? Quando la radice che parte dalla punta in cui viene rotta, parte in maniera laterale e quindi si fissa bene al terreno e quando diventerà grande l'albero riuscirà ad aver sviluppato le radici in orizzontale e in profondità, in tutti e due versi, e sarà molto stabile mentre invece se non lo fate l'apparato radicale si sviluppa principalmente in questo senso e se tira molto vento quando la pianta fa questo movimento fuori non ha più resistenza.